buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo un microscopio stereoscopico una telecamera per microscopia e osserveremo degli utensili diamantati quindi vediamo un videomicroscopio e come viene utilizzato per osservare la polvere diamantata presente su degli strumenti abrasivi diamantati uno degli aspetti interessanti e molto utili della videomicroscopia è poter osservare al microscopio ottico e poter guardare nello stesso tempo in un video di un computer è possibile fare filmati e fotografie quindi possiamo documentare quello che stiamo osservando ed è molto utile poter fare fotografie ad oggetti che si stanno osservando ecco qui vediamo dei granuli questo diamante elettrodepositato attraverso dei bagni galvanici noi abbiamo deciso di osservare della polvere diamantata presente su degli strumenti abrasivi ma è possibile osservare viti filetti punte con un microscopio stereoscopico possiamo osservare filati tessuto è possibile osservare carta stampati possibili impieghi sono molteplici qui abbiamo visto un utilizzo nel settore industriale ma il microscopio stereoscopico utilizzato anche per osservare fiori foglie piante insetti quindi ha un ampio utilizzo poi noi ci mettiamo una telecamera digitale specifica per microscopia e quindi trasformiamo il nostro microscopio in un videomicroscopio per maggiori informazioni potete vedere il nostro sito www.elettronicadidattica.com grazie per l'attenzione e se volete iscrivetevi sul nostro canale grazie ancora grazie a tutti